Benvenuti da 3D Rendering Beyond ad un tutorial su come installare V-Ray Standalone per Distributed Rendering su un computer Windows. Lo Standalone non va installato sul computer principale ma solo sui computer dove andremo a distribuire il calcolo. Possiamo aggiungere fino a 10 computer e lo Standalone va installato su ognuno di essi. Prima di tutto apriamo la pagina di V-Ray for Cinema 4D e andiamo su Latest Updates Installers. Andiamo su V-Ray for Cinema 4D 1.9, andiamo qua giù in basso dove troviamo V-Ray Standalone e a questo punto dobbiamo scaricare Get V-Ray Standalone la versione di Windows e anche Get Cinema 4D UW Gen for V-Ray Standalone. Allora, una volta scaricati possiamo entrare all'interno del nostro computer. In questo computer io già ce li ho installati ma possiamo comunque vedere come poter far funzionare lo Standalone. Allora, una volta installato il file Standalone di Windows, dobbiamo entrare dentro l'hard disk di Windows, andare dentro quindi C, Program Files, Chaos Group, V-Ray Standalone, Bin, X64, VC101, dentro Plugins e qua dentro andiamo a copiare quel file che abbiamo scaricato da Internet Cinema 4D UW Gen. Andiamo a copiarlo qua dentro. Nel momento in cui copiamo questo file ci sarà una vecchia versione qua dentro, quindi quando richiesto dobbiamo direttamente sostituirlo, non dobbiamo avere due versioni di quel file. Adesso dobbiamo trovare il file di V-Ray.exe, quindi riandiamo dentro local disk, Program Files, Chaos Group, V-Ray Standalone, Bin, X64, VC101 e qui troviamo il file di V-Ray.exe. Clicchiamo con il destro su questo file e creiamo un collegamento, Create Shortcut se ce l'avete in inglese. Una volta creato il collegamento sul nostro desktop, clicchiamo con il destro su V-Ray Shortcut, andiamo sulle proprietà, andiamo su Target e su Target troveremo tutta questa parte qui scritta fino alle virgolette. Dopo le virgolette dobbiamo aggiungere uno spazio trattino server, mi raccomando ci deve essere lo spazio dopo le virgolette. Dopodiché clicchiamo su Apply. A questo punto se facciamo doppio clic sul V-Ray Shortcut partirà il nostro Standalone. Altra cosa importante è che bisogna autorizzare sempre la connessione Firewall se si utilizza un Firewall, quindi basta autorizzarlo la prima volta. Dopodiché dobbiamo andare a verificare il nostro indirizzo IP. Quindi clicchiamo con il destro sul nostro network e facciamo, apriamo il Network e Sharing Center. Clicchiamo su Change Adapter Settings. Clicchiamo sul destro sul nostro network e andiamo sulle proprietà. A questo punto andiamo qui dove ci sta scritto TCP IPv4, doppio clic, e qua dobbiamo andare ad inserire il nostro indirizzo IP fisso. Mi raccomando deve essere diverso dagli altri devices collegati alla rete, altrimenti non funzionerà. possiamo dare l'ok. Chiudiamo il nostro network. Se vogliamo andare a verificare il nostro indirizzo IP, basta andare su Command Prompt e digitare ipconfig e qua su in alto troverete il vostro indirizzo IP da inserire poi all'interno di Cinema 4D sotto DR. Ogni volta per poter utilizzare lo standalone su questo computer bisognerà far partire il V-Ray shortcut oppure inserirlo nello startup dei programmi Windows all'avvio del computer. Ora andiamo a vedere come impostare il DR direttamente su Cinema 4D. Quindi entriamo dentro Cinema 4D, andiamo su Render Settings, andiamo su V-Ray Bridge, V-Ray DR, bisognerà attivare tutti e due questi elementi, quindi Use Distributed Rendering e Enable Assets. Dopodiché andiamo ad attivare lo slave a seconda di quanti slave abbiamo. Andiamo ad attivare lo slave ed inseriamo l'indirizzo IP del computer dove abbiamo installato lo standalone. Grazie da 3D Render & Beyond per aver seguito il nostro tutorial. Se volete essere aggiornati sull'uscita di nuovi tutorial, iscrivetevi alla nostra newsletter. Potete trovare tutti i nostri link nell'info box in basso.